Questa mattina, visto presenti in sala consigliare, tutti gli attori che hanno parola nell'area Val d'Ario, dove entro il 2024 ci sarà una bonifica dall'amianto che sta inquinando le centinaia di metri cubi di rifiuti che qui sono depositati. Tra gli ospiti anche l'assessore della Regione Veneto, Marcato. Riassumendo in breve, l'area della discarica di Val d'Ario andrà bonificata dall'amianto. Il materiale che sarà ripulito verrà utilizzato per la realizzazione di banchine. Il costo dell'operazione è di circa 30 milioni di euro, a cui si aggiungono i costi della bonifica, ma l'alternativa era lasciare l'amianto interrato tra i rifiuti, alternativa neppure considerabile in un'ottica di riqualifica ambientale. Sarà un lavoro certosino che dovrà essere completato entro il 2024.